Siamo qui con Lorenzo Sarcinelli di Un Posto al Sole, il Patrizio Giordano, figlio del grande Raffaele, uno dei protagonisti della grande soppopera di successo che è giunto ormai al suo ventidesimo anno di età. La tua passione per la recitazione inizia a tre anni, leggevo. Nel 2014, a 16 anni, decidi di incominciare una scuola di recitazione e nel 2015 già entri in un cast importante come quello di Un Posto al Sole. Com'è andata questa esperienza? Cosa ti ha portato a Un Posto al Sole? Sì, come hai detto benissimo tu, io a ottobre del 2014 ho iniziato questa scuola di recitazione a quasi 17 anni, 16, quasi 17, e poi un giorno il mio insegnante entrò in classe e mi dice Senti, io ho mandato le tue foto a quelli di Un Posto al Sole e tu vuoi fare un provino? Che lo viene a dire a me? Ha detto sì, certo, vado a fare subito questo provino. Ok, ok, perché ti vogliono vedere. E poi feci questo provino e dopo un mesetto mi hanno richiamato per fare un callback, si chiama, che era piuttosto una prova feeling con Patrizio Rispo, per vedere come ci trovavamo insieme, se io riuscivo anche a stargli dietro sull'improvvisazione, abbraccio e tutto. E poi, per mia fortuna, hanno deciso di prendermi. E il 20 aprile ho fatto il mio primo giorno di set. Ed è tutto grazie al mio insegnante che ha puntato su di me. Sei entrato in una soppopera che, come abbiamo detto, ha 22 anni, quindi è un po' più vecchietta di te. Come ti hanno accolto con una grande famiglia? Hai dovuto imparare un po' tutte le dinamiche dell'esop, tutti gli amori passati, tutti gli intrighi passati? Cosa hai dovuto fare? Hai dovuto studiare un bel po', insomma? Sì, perché io confesso che prima di iniziare non l'avevo mai visto. Quando sono entrato io non sapevo nulla della storia, effettivamente, e ho fatto tutto un ripasso mio. Ho usato tutte le persone che mi erano vicine, che vedevano il prodotto, per farmi raccontare qualcosa, ma soprattutto mi sono fatto raccontare il background anche del mio personaggio dal mio acting coach, Luciano Nozzolillo, perché con lui lavoriamo ogni giorno sulle scene che poi dovrò girare. E mi ricordo il primo incontro con lui, lui mi ha fatto tutta una spiegazione, sia in generale delle storie che orbitavano intorno al mio personaggio, ma soprattutto il mio personaggio, perché io ho fatto, il mio è stato un recast, io ho sostituito il ragazzo che c'era prima di me per il mio ruolo, e quindi lui mi ha dovuto spiegare comunque il mio personaggio com'è, dal punto di vista caratteriale, cosa ha fatto comunque nella vita, come si rapporta col padre, come si rapporta con la madre, come si rapporta con la sorella. Tutto un background, è stata una botta in faccia, tipo qualche giorno prima di fare il primo giorni set, che sono il primo giorni set e ho detto chi sono? Tu lavori al fianco di Patrizio Rispo, Marzio Norato, Lucio Allocca, attori napoletani che hanno una grande esperienza anche e soprattutto nel teatro. Ti hanno dato qualcosa a livello proprio tuo di attore? Secondo te ti hanno aiutato a crescere come attore? Allora, io lavoro principalmente con Patrizio. Con Marzio e Lucio ho avuto delle scene, ho lavorato, però ho avuto ovviamente meno a che fare, quindi ho avuto anche meno la possibilità di imparare, anche già da una chiacchierata. Mi permetto di dire che Patrizio mi ha insegnato tanto perché è stato sempre in grado di mettermi in difficoltà, in qualche modo, anche improvvisando, lanciandomi altre battute. E questo mi ha fatto molto crescere, ha allenato molto la mia elasticità mentale sul testo, la mia elasticità mentale sulla scena, la prontezza di riflessi, che secondo me è fondamentale per un attore, soprattutto un attore di teatro anche. Perché, lo sappiamo tutti, quando sei a cinema o in televisione, alla fine sbagli, e vabbè, ciac, si riprende, la rifacciamo, vai tranquillo Lorenzo, non ti preoccupare. Teatro no, teatro hai. Cioè, sali sul palco, quello devi fare. E se le cose stanno andando male, le devi apparare in un certo senso. E devi reagire, se qualcosa va storto, devi reagire, devi essere pronto. E in questo, veramente, Patrizio mi ha aiutato tantissimo. Ma già dalla prima prova feeling di cui parlavo prima. E poi è sempre lì a, diciamo, ad evitare che io possa volare a 80.000 metri da terra. Anche questo è molto importante. E comunque è sempre lì ad aiutarmi, quando può e quando crede che serva. Quindi possiamo dire che sei la persona a cui sei più legato, diciamo, sul set, nel cast. Ma certo. Cioè, io sono legato a tante persone, anche ai ragazzi, perché comunque con i ragazzi ho proprio un rapporto vero e proprio di amicizia. Scendiamo con Giorgia, Luca, tutti quanti insieme usciamo, andiamo a bere, andiamo a mangiare. Quindi, però sì, lui, Marina Giulia, e anche Ilenia, ovviamente, cioè, loro tre. E forse in particolare, se proprio dovessi prendere una persona, certo, Patrizio, è stato il primo attore con cui ho interagito. E il mio padre sul set. Però non riesco neanche a metterlo sopra Marina Giulia, perché Marina Giulia allo stesso tempo è stata mia madre. Cioè, lei mi è sempre stata molto vicina. Cioè, ad esempio, Patrizio è uno che mi aiuta non dicendomi nulla. Giulia mi aiuta dicendomi qualcosa, sempre. E quindi, diciamo, sì, mi bilanciano, cioè, non saprei dire, ma indubbiamente a loro due sono più legato. E poi, ovviamente, a Ilenia, sono i primi con cui ho interagito, la mia famiglia lì. E non si può negare il fatto che una famiglia fittizia, alla fine, diventi una vera famiglia, come tutto il prodotto proprio. Come vedi il tuo futuro lavorativo? Sposato con Rossella a un posto al sole o sul set di un film per il cinema? Non mi puoi fare queste domande. Beh, io, come ogni ragazzo di vent'anni, nato soprattutto come me, con la passione per questo mestiere da quando ho a tre anni e a cinque anni con un discorso pronto per l'Oscar, non può che sperare di capitare su tanti altri set cinematografici e crescere sempre di più, crescere anche in teatro. Io faccio teatro, studio teatro, amo il teatro. Quindi, se dovessi vedere un mio futuro, lo vedrei su tanti altri set, ma, indubbiamente, il set di un posto al sole, cioè, non l'abbandonerò mai, rimarrà sempre con me. E quindi, per rispondere alla tua domanda, sì, forse su altri set. Tra l'altro, ho appena iniziato, finalmente, ad approcciarmi anche al cinema e ho appena finito di girare un film. Però, non lo so, poi, invece, magari riesco a far coniugare entrambe le cose e vedo un futuro di me sposato con Rossella o magari con altri personaggi all'interno di un posto al sole e, allo stesso tempo, con me su altri set, a teatro, che sarebbe, penso, forse la cosa più bella che un attore possa sperare e che io possa sperare, in realtà, fare tutto. Senti, un posto al sole è girato a Napoli e, quindi, ovviamente, a Napoli è anche molto seguita. Allora, quando cammini per strada, come gestisci il tuo rapporto col successo, col tuo personaggio? Ma, eh, non è facile. Cioè, io dico sempre che questa è una parte fondamentale di questo mestiere, cioè il rapporto con le persone, la popolarità. Perché quando decidi di fare l'attore o di essere comunque un personaggio pubblico, devi aspettarti che la gente ti riconosca perché magari apprezza il tuo mestiere, il tuo lavoro che fai e quindi ti stia addosso perché ti vuole, ti vuole conoscere, vuole farti una foto, un autografo. Però è bellissimo, è bellissimo e critico, personalmente, critico tutti gli attori che non, quantomeno non mettono disponibilità nel essere vicini ai loro fan. Perché, passatemi il termine napoletano, sono un ragazzo molto diretto, non ha troppo rocazzi, cioè, nel senso, sono molto sincero io in questo, non ho problemi, non ho filtri. Quindi, per me, per me è parte del lavoro. Siete pagati, in un certo senso, anche per questo. E quindi, io credo profondamente che bisogna stare il più possibile vicino alle persone che ti seguono. Senti, Lorenzo, l'ultima domanda, sei giovanissimo, che consiglio ti senti di dare a un altro ragazzo come te o anche più piccolo che vuole intraprendere la strada e la carriera dell'attore? Eh, innanzitutto dico che non sono nessuno per poter dare questo consiglio, assolutamente. Però io ho sempre creduto e sempre crederò, ma non solo per quanto riguarda il mestiere dell'attore, qualsiasi mestiere che si sogna di fare. Io credo che i sogni pesano, pesano tanto. E questo peso lo senti, lo senti, lo senti sempre di più. E bisogna essere veramente forti, avere le spalle grosse per riuscire a realizzarli e a portarli avanti, soprattutto. Perché la costanza del portare avanti il sogno, e anche nelle difficoltà, è quella che poi ti fa capire se quell'idea, quel sogno vale o meno. Il consiglio che posso dare è date tutto, credeteci sempre e comunque, a dispetto di qualsiasi altra persona che vi possa dire che voi non potete farlo. Queste possono sembrare benissimo delle parole di circostanza, però io sono uno che a mia madre ha detto Ma io preferisco vivere di pane e prosciutto e fare un set all'anno, o uno spettacolo a teatro all'anno, piuttosto che svegliarmi alle 10 del mattino, calmo calmo, andare in ufficio, guardarmi allo specchio la sera quando torno a casa e dire Lorenzo, ma non sei contento? E questo per me non è... Cioè, tutto, tutti, anche i soldi, sì è vero, tutto quello che c'è nel mondo può pagare, ma nulla paga più della felicità propria, più del guardarsi allo specchio e dire Io oggi ho fatto quello che volevo e sono contento. Fin quando si è giovani si ha ancora la possibilità di sbagliare e di credere nei sogni e provarci sempre e comunque. Fare qualsiasi cosa, buttarsi, veramente qualsiasi cosa voi avete la possibilità di fare, fatela. Tanto se sbagliate non è un problema, noi siamo nati per sbagliare e sbagliando, come dice il detto, sbagliando si impara. E quindi adesso possiamo farlo, se poi arriviamo a 30, 35 anni, 40 anni che non ci abbiamo provato e vogliamo provarci, è lì non possiamo più sbagliare. Grazie per esserci venuto a trovare. Grazie mille a voi per avermi offerto questa possibilità. Un grande bacio da me, questo ragazzino. Lorenzo e Patrizio. Ciao.